in questo numero del salus tg l'esperto il diabete è una malattia complessa da non sottovalutare studio sfata vecchio ad agio dolori non prevedono il meteo gel riduce la crescita delle cellule del carcinoma mammario solo il 3 per cento degli italiani teme il diabete un segno evidente questo di quanto gli italiani conoscono poco il diabete tra questi anche gli stessi diabetici a rivelarle un'indagine demoscopica realizzato dalla società italiana di diabetologia quello che succederà nel corso degli anni di questa malattia che non è una malattia semplice una malattia molto complessa dipende da quanto queste persone parteciperanno attivamente alla cura anche quando la glicemia è modestamente aumentata le cellule i tessuti gli apparati del nostro organismo vanno in sofferenza ecco perché la malattia è una malattia seria che va curata con molta attenzione un nuovo studio sfata il vecchio ad agio che indicava nel dolore alla schiena o alle ossa un modo casalingo per prevedere il meteo in particolare un improvviso cambiamento del tempo l'arrivo del freddo secondo l'università di sydney che ha esaminato mille pazienti non c'è nessun legame tra la temperatura e i temporali la pressione dell'aria o l'umidità e i dolori articolari più diffusi tra cui il mal di schiena la ricerca australiana ha confrontato le condizioni del meteo una settimana prima e un mese dopo la comparsa dei segnali di mal di schiena dei pazienti un gel a base di tamoxifene da applicare sulla pelle si è rivelato efficace nel ridurre la crescita di cellule di tumore al seno nelle donne con una forma di cancro non diffusa il carcinoma duttale in situ sensibile agli estrogeni è quanto emerge da uno studio statunitense dopo sei dieci settimane di applicazione del gel la riduzione di un marker della crescita delle cellule tumorali nel tessuto del seno era simile a quella registrata con il tamoxifene orale il gel dunque come le pasticche potrebbe essere usato per ridurre il rischio di recidiva